E' trascorso un anno da quando due giovani vite sono state brutalmente spezzate. Era la sera del 21 settembre quando all'ora di cena 80 coltellate furono inflitte sui corpi di Eleonora Vanta, trentenne di Secli, funzionaria dell'Inps di Brindisi, e dell'arbitro leccese Daniele De Santis, di 33 anni. Ad impugnare l'arma fu l'ex coinquilino Antonio De Marco, il ventunenne di Casarano, che poi confessò il duplice delitto, del quale risponderà nel processo in corso davanti alla Corte Assisa. Nel corso del pomeriggio odierno, alle 17.30, si terrà una manifestazione in ricordo delle vittime, dal titolo Giornata commemorativa in memoria di Eleonora e Daniele, in Viale San Paolo, a Secli, organizzata dall'amministrazione comunale e dalla professoressa Rosanna Carpentieri, madre della ragazza. In aula, invece, si ritornerà il prossimo 5 di ottobre, nel processo in cui De Marco risponde del duplice omicidio, aggravato dalla premedinazione, crudeltà e futili motivi. La coppia stava festeggiando il primo giorno della convivenza nell'appartamento di Via Montello a Lecce, quando si trovò davanti l'ossulenza di scienze infermeristiche, col volto coperto e armato di un grosso coltello da caccia, che scatenò contro di loro tutta la sua rabbia, soprattutto provocata dal fatto di non riuscire ad avere una relazione sentimentale, come raccontò lo stesso nei suoi diari. Un atto folle con cui ha cancellato la vita di due ragazzi che stavano per iniziare il loro percorso come coppia, oltre che per aver distrutto le due famiglie che da un anno sopravvivono con questo atroce dolore nel cuore, che non potranno mai sanare.